Il treno regionale, 19, 9, 4, 0, di Trenitalia, delle ore 6 e 27, per Bari Centrale, è in partenza dal binario 2. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 19, 9, 4, 2, di Trenitalia, delle ore 7 e 27, per Bari Centrale, è in partenza dal binario 1. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 19, 9, 4, 4, di Trenitalia, delle ore 7 e 57, per Bari Centrale, è in partenza dal binario 1. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 19, 4, 4, 7, di Trenitalia, delle ore 7 e 57, proveniente da Bari Centrale, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19, 9, 5, 4, di Trenitalia, delle ore 13 e 27, per Bari Centrale, è in partenza dal binario 1. Ferma in tutte le stazioni.